salve a tutti questo è un video che non riguarda audio linux ma riguarda una tecnologia assistiva per persone disabili in questo caso ipovedenti e dislessici e abbiamo scoperto e io e un mio amico marco paravano che senza toccare niente c'è già un sistema per ingrandire lo schermo prima di tutto bisogna spiegare che problemi hanno queste tipologie di persone gli ipovedenti vedono male e ci vedo un poco e quindi gli farebbe comodo ingrandire lo schermo e gli slessici e fanno fatica a leggere le cose troppo piccole invertono le sillabe e non riescono a leggere una riga dietro l'altra saltano righe quindi tutte e due le situazioni è conveniente avere un ingrandimento dello schermo adesso vi faccio vedere una pagina qualunque per esempio adesso sto aprendo una pagina di facebook quando c'è del testo interessante ok faccio fatica a leggere allora adesso io premo alt e la rotellina del mouse voilà si ingrandisce quando ho scelto l'ingrandimento che voglio per esempio questo col mouse nuovo e mi sposto a destra o a sinistra del quello che ho ingrandito e così posso anche fare alt rotellina tornare alla grandezza normale del lo schermo e adesso vi faccio vedere una cosa interessante perché voi direte a ivo ha fatto questa roba dentro a firefox magari lo fa firefox no no lo fa proprio il sistema operativo col desktop xfce perché adesso spostato un po e la finestra clicco sullo sfondo faccio alt e rotellina e sto ingrandendo il mio desktop quindi funziona praticamente ovunque questa tecnologia assistiva questo è tutto ci vediamo al prossimo tutorial ciao